Gavorano, Lavagnese e Massese, chi ritiene la vera rivale della Saremese al momento? Non escludendo Savona ovviamente, lasciate fuori Savona perché è dietro. Se hanno fatto 23 punti vuol dire che sono stati più bravi, che sono stati più bravi di noi. Adesso sono 12 partite quindi inizia ad essere abbastanza veritiera. Sicuramente il Gavorano ha partito con aspettative di Primato e sta rispettando quelle che sono le sue aspettative. Come la Massese e una Lavagnese che è una delle squadre che è più tempo che in Serie D, è una squadra che tutti gli anni fa una squadra da primi cinque posti e sta rispettando le sue speranze. Per quello che riguarda noi siamo contenti e soddisfatti, speriamo di migliorare la nostra classifica perché cerchiamo, come diceva Prima Cast, tutte le partite ne entriamo in campo per vincere. Però senza crearci aspettative, pressioni esagerate o aspettative nella gente o troppo importanti da creare delusioni sia all'interno che all'esterno. Noi sicuramente diamo tutto quello che abbiamo per cercare di fare il meglio ogni partita. sia come squadra come gruppo che la società nel cercare di migliorarsi, di strutturarsi, organizzarsi ancora meglio per culture magari più importanti. Però la classifica è incostamente questa e la prendiamo per quello che è. Vediamo come andremo avanti. Il suo lavoro è perfetto fino a questo momento, a parte non siete prima in classifica, però solo il Borgosesia non ha perso in Serie D, vuol dire che il lavoro comincia a pagare. No, il Borgosesia è la Triestina. È la Triestina, sì. Siamo rimasti tre squadre. Il mio lavoro non lo ritengo perfetto, non lo ritengo che debba essere sempre migliorato anche perché mi metto in discussione giornalmente. Potevo fare meglio in alcune cose, altre sono venute come chiedevo e di cui mi ritengo soddisfatto. Però sicuramente l'equilibrio deve essere una parte del nostro aspetto sia mentale che di gioco.